Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video, nuovo weekend ricco di emozioni con la nostra sop'opera preferita dei dreamer leali del sogno. La puntata del 17 ottobre l'ho già inserita sul mio canale youtube ma ve la metterò qui anche a fine video. Oggi invece narriamo la puntata del 18 ottobre, che cosa succederà precisamente quella di domenica. Ci sarà, arriverà lei, Huma, la mamma di Jeanne, che per un momento sarà una donna misteriosa per Sanem, che cercherà di rovinare l'amore tra Jeanne e Sanem. Come già vi aveva annunciato nel video del 17 ottobre, Sanem uscirà di nascosto dall'ufficio di Enzo Fabri per consegnargli così il profumo e firmare il contratto, da lì spera veramente di non vederlo mai più. Nel frattempo però Jeanne, uscito dal carcere, è uforico e felice, così si potrà adesso dedicare alla nuova campagna e organizza tutto il team per mettere idee nuove nella creazione di questo nuovo progetto. Ma tra un casino e l'altro Jeanne e Sanem riusciranno anche a concedersi un momento di intimità e andranno nuovamente al mare. Lì Jeanne avrà un momento di spogo proprio con la sua fidanzata, dove gli racconterà un momento veramente commovente della sua infanzia. Nella soap opera però ci sarà un annuientri, che sarà proprio la mamma di Jeanne. Lei si presenterà nel quartiere di Sanem e sarà una donna misteriosa perché non rivelerà nulla di sé, ma solo andrà lì perché vuole aiutare il quartiere e quindi investire dei soldi. Ma avrà un incontro proprio con Sanem che sarà veramente difficile ed esplosivo. Tra i due infatti scoppierà una vera e propria vite. Sanem è inconsapevole assolutamente che sia la mamma di Jeanne. Per questo obbligherà la donna a rimettere del mangiare nella ciotola che aveva spostato con i piedi per gli animali randaggi del quartiere. Un rapporto vi assicuro che quando si conosceranno, quindi scopriranno la vera identità, cioè Sanem sarà la fidanzata del figlio e Uma in realtà è la mamma di Jeanne, scoppierà una vera vite perché la donna non accetterà assolutamente la relazione tra Jeanne e Sanem. Ma questo e molto altro lo scopriremo nelle prossime puntate aspettando il destino della nostra SOP. Nel frattempo ragazzi io vi ricordo che la bella Demet, cioè attrice di Sanem, sarà ospite proprio domani sabato 17 ottobre nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Aprirà il suo cuore all'Italia, un po' come ha fatto Jeanne Yaman sabato scorso. Quindi restate in attesa per altri prossimi video. Un abbraccio da Angela da Tutto Alweb. Un abbraccio da Angela da Tutto Alweb. Un abbraccio da Torre.